Con READY PRO è possibile gestire delle gallerie video da utilizzare all'interno delle pagine di contenuti del template e-commerce. All'interno della gestione template e contenuti vi è la sezione gallerie in cui possiamo creare delle nuove gallerie video assegnando a ciascuna un nome. Ogni galleria può contenere vari video YouTube di cui occorre inserire l'indirizzo copiandolo dalla pagina del video YouTube ed una eventuale descrizione. Con le stesse modalità appena viste abbiamo inserito 4 video YouTube all'interno della nostra galleria. Una volta creata la galleria video possiamo aggiungerla all'interno di qualsiasi pagina di contenuti del nostro sito. In questo esempio abbiamo aggiunto la galleria video ad una pagina di guida alla scelta di un prodotto che sarà di ulteriore stimolo ai visitatori a rimanere più tempo sul nostro sito soddisfacendo il loro bisogno di informazioni prima di un eventuale acquisto. Grazie a tutti.